Grazie davvero per la partecipazione a questo momento di presentazione, di conferenza stanno di presentazione della stagione sportiva 2021-2022 del campionato di Serie A di Ragui dell'Alberona Ragui. Siamo qui nello stadio, nella casa, nell'officina dell'Accademia dell'Alberona Ragui e ringraziamo davvero tutti i presenti di essere venuti in questa sede importante di prestigio che è appunto la casa dell'Alberona Ragui e con gli onori farà la nostra Presidente Raffaella Vitadello che presenta un po' gli intervenuti diciamo a questo momento, che ha fiancato dal Presidente della Federazione dell'Alberona Ragui, Marci Innocenti, che ha fatto santi mortali, ma rientra di esserci. Abbiamo il Presidente del Comitato Ragionale Veneto, della FIER, Sandro Trevisan, e poi abbiamo il nostro allenatore della squadra, ma anche il Direttore di Armi, il Direttore della Cane, il Zain Hansel, e il Capitano della squadra che non ha finta di niente là nell'angolo, ma che sarà anche lui chiamato a dire qualche parola, che è Michele Mortali. Siamo poi particolarmente grati al nostro Sindaco della Scala di Verona, Federico Svolina, che è qui in prima fila e che poi ci avrà qualche parola dopo gli interventi dei nostri introduttori, diciamo così, alle cerimonie. Poi abbiamo anche il Delegato Provinciale da Ragui, Carlo Marco Longo, che ringrazio anche della presenza, tanti esponenti della stampa locale e anche della politica locale che ci sono stati vicini in questi anni. E poi abbiamo tutta la nostra squadra, che si sono impegnati, si sono messi anche la divisa ufficiale e stavo dimenticando, se avete voluto dimenticando, che sono importanti, naturalmente, che il Presidente Adorno a Ragionio, che è Daniel Paiano, che si è messo nel fondo per solito, non vuole comparire, ma c'è anche lui. E poi ci sono ovviamente gli staff, ma ci riscriveranno anche gli allenatori e gli altri che presenteranno appunto questa stagione. Intanto, ovviamente, la gioia di trovarsi qui insieme, per poter parlare di uno sport non soltanto pensato, ideizzato, sognato, ma giocato. Il campionato è cominciato domenica scorsa, tra l'altro in trasferta, sul campo di prestigio come quello del Memo di Germia di Terrarca Padova. Abbiamo usato un pareggio, 23 pari, particolarmente, palpitante, che ci ha regalato, ci ha emozioni, perché quello di cui abbiamo veramente bisogno e stanno la mancanza. E domenica, invece, avremo l'esordio qui in casa, le 15.30, con il Casale, che siamo tutti, naturalmente, invitati a partecipare a questa prima, diciamo, del Casalino. Ma io vorrei parlare adesso alla nostra Presidente, Raffaele Vittorello, che presenterà un po' la stagione della Serie A, quelli che sono gli obiettivi, le aspettative, ecco, di questo nuovo campionato. Allora, innanzitutto ringrazio a tutti i presenti e nell'elencazione di Davide aggiungerei gli sponsor, perché senza il loro appoggio sarebbe veramente difficile per affrontare una stagione sportiva, i sponsor che sono da oggi, quelli che non ci sono, e quelli che sicuramente troveremo durante la nostra strada. Quindi, grazie a tutti. E voglio ringraziare Dino per questa conferenza stampa. Dino e quest'anno si sono aggiunti il nostro staff a tante persone che hanno voglia di aiutare il rugby. Vengono da altri sport, però si stanno venendo a noi, perché comunque c'è qualcosa in questo posto che ha tante persone da fiducia. Non volevo fare la conferenza stampa, perché volevo volare in basso, dopo una stagione di esistenza l'anno scorso, e lui mi ha detto, ma no, facciamo una cosa semplice. La cosa semplice, oggi vedo un sacco di persone, personalità importanti, che mi hanno chiamato una parte, sono riuscita a liberarmi il nostro sindaco, Alberto, che è in una regione con una funzione importante per lo sport, quindi comunque tante persone, per alcuni di voi ragazzi è la vostra prima conferenza stampa, e quindi vorrei farvi capire cosa significa. Significa presentarvi all'esponsor, presentarvi ai giornalisti, presentarvi alle istituzioni, perché le istituzioni sono un elemento importante dove noi facciamo parte dell'istituzione, di qualunque questa sia, e presentarvi che cosa sono i nostri obiettivi come squadra. Allora, io sono particolarmente, questa è la mia quarta, terza conferenza stampa, quarta stagione, sono particolarmente contenta di questa squadra. È nata questa estate da una miscela per me, che finalmente mi fa dire, questa squadra me la sento mia, fatta con i miei criteri, con quelli e i miei obiettivi, e adesso cerco solo di spiegare il perché. Ve lo spiego durante una conferenza stampa, perché molto spesso non ho occasione di parlare, chi mi conosce, ottico mortali, sa benissimo quali sono i criteri di questa squadra. I giovani, penso che l'abbiamo capito, soprattutto i giovani che sono stati a casa mia a vivere in questi due anni, quindi mi conoscono benissimo. Però questo è l'inizio del borcello del mio progetto. È una squadra fatta di ragazzi, chiamiamoli non troppo giovani, ma sono giovani nell'anagrafe, che però erano qua l'anno scorso, che hanno sofferto con tutto lo staff l'anno scorso, perché trovare un obiettivo, una stagione inesistente, dove gli si chiedeva soltanto di allenarsi, è stato difficile. Chi oggi è qua ha capito che allenarsi non era solo per se stessi, o per un concetto di atleta, ma era far vedere ai piccoli e agli accademici che c'era un futuro, che comunque anche se la stagione era chiusa bisognava lavorare e lavorare più. Quindi tutti quelli che c'erano l'anno scorso e quest'anno sono rimasti li abbiamo scelti perché hanno evidenzato resilienza. Un fatto per me nuovo, che è usato adesso molto spesso nello sport, che però sto vivendo anche con il filo all'estero. Voi avete fatto capire che ok, non c'è un obiettivo, bisogna trovarlo dentro. Si passano momenti duri in quanto perché ci sia altra mattina bisogna trovare il motivo dentro e nella famiglia e nella squadra. Quindi abbiamo scelto queste persone ad hoc e abbiamo mandato via quelli che non hanno interpretato correttamente la scorsa stagione, che ha avuto un significato. Lo vediamo adesso dei giovani che stanno giocando con voi quest'anno. Poi abbiamo scelto altre persone, sempre meno giovani, con delle caratteristiche. Innanzitutto che fossero brave persone. Il concetto di averli, prenderli per poi l'anno prossimo sperare di andare in top 12 o in top 10 con loro è senz'altro un sinetro anonimo. Però era principalmente persone buone, con esperienza, con tanta voglia di giocare e con tanta voglia di dare. In inglese dicono giver, cioè tutti quelli che sono tornati, che avevano giocato con noi in passato o che per la prima volta giocano con noi, che hanno una certa età, una certa età, quando è un regno si dice da 21 anni in su, perché è questa è una certa età, mi fa capire quando è una squadra, sono stati scelti perché hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da dare ai peggiori. Innanzitutto sono grandi i lavoratori, io ho sempre fatto un riso, qualcuno, faccio un esempio di Danata, mi piace da morire, ha sempre gli occhi che luccano e la voglia di dare, ok, ma non sono tutti quanti. E quindi questo è stato un altro elemento importante. Di 3-4 lavoratori, chiedono parte del gruppo per dare quel passo dopo la squadra, dopo lo sport cosa c'è? Bisogna andare a lavorare, bisogna far famiglia, ci sono i figli, però comunque far parte di una squadra, far parte di un club, far parte di uno spogliatorio sotto il cui adesso ci possiamo entrare, ha un grosso significato. Loro hanno tanto da dare ai giovani, tanto, la disciplina, l'etica del lavoro, loro lavorano ogni giorno, vengono comunque ad allenarsi, comunque ad allenarsi sapendo che forse nell'instagare non ci arriveranno male e chi ci è arrivato durante l'amichevole ed era assai letto rispetto a tutti gli altri, ha dato tutto. E quindi questo è, i giovani hanno tanto da imparare da queste persone, dai 3 lavoratori che abbiamo. E poi abbiamo i cosiddetti giovani appunto, 2001, 2002, 2003 e 2004. Ecco, avere una squadra con questo mix, ok, per me è affascinante, finalmente sono contenta, finalmente mi diverto, finalmente pianto la domenica scorsa che stavo male a casa a guardarmi su Facebook e sono stata male, ma ho cercato di capire perché è successo. Però c'è tanta emozione, c'è tanta parte umana nella qualità del lavoro che state facendo. Perché voi al 15 luglio eravate qua a fare il camp imposto da me come una pre-aspettativa, se non vengono non mi vogliono il 23 agosto, perché così dicevano i vostri procuratori, ok, il 23 agosto eravate tutti presenti, ci sono poi i nuovi che sono arrivati dall'estero che comunque si sono inseriti perché sono nella squadra, ok, questo porta gioia, porterà nella lista della tribuna i vostri amici, le vostre morose, i vostri familiari, c'è chi si porta già la compagna di classe, i più vecchi, i più giovani e per me questo è il rugby, ok, questo è quello che voglio, emozione durante la partita, duro lavoro durante la settimana e credo che questo mixer ci sia, quindi sono molto contenta. Volevo poi ringraziare... A di là dello staff che anche loro è stato tutto confermato che per me è una gioia e una serenità avere uno staff che crede nel progetto, che crede in ciò che stiamo facendo, ognuno con i propri pregi difetti sanno discutere tra di loro e sanno trovare l'accordo e questo per me è molto giusto per lavorare perché comunque tutti lo fanno per il bene della squadra. Volevo però fare un ringraziamento speciale ai nostri dieci di mezzo, nel senso, quest'anno ho avuto, ci sono delle persone che ho chiesto di rimanere all'interno del club anche con poco tempo che hanno disposizione per lavoro, per gli obiettivi familiari, per l'età, eccetera, eccetera. Ho chiesto comunque di partecipare. Anche voi siete elementi importanti di questa squadra perché voi avete tanto da dare a questi ragazzi, con la vostra esperienza, facendo una domanda in più, cercando di capire come stanno, cercando di capire perché la partita è andata bene, perché la partita è andata male. Quindi credo che la vostra presenza nello scorgatorio sia essenziale per l'equilibrio di dire qualcosa che vi limita la storia o dell'esperienza di una nuova. Perché è bello essere giovane, sì, però quando si ha, come me, 40-50 anni, l'esperienza serve. L'esperienza della vita serve perché si guarda indietro e si dice ho imparato tante cose e quindi a voi ragazzi chiedo, chiedete alle persone un po' più, scusate, inanziane come noi, però fateci le domande, chiedetevi il nostro punto di vista perché sempre può essere d'aiuto e cresciamo tutti insieme, ok? Noi diamo a voi e voi ci date tanta energia positiva che sapete più. Quindi vi ringrazio anche voi per far parte del nostro tempo. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, Raffaele Vittadello, che credo si è costa condensare nello spirito anche di questo club e del progetto che passa attraverso i ragazzi della prima squadra e collegato appunto anche alla tuttora di formazione e all'academy che trova qui la sua sede. Sul discorso, l'età, giovani, anziani, in fisico sopolare, perché se già con un'età giovani si dice anziani, io lo è, insomma, diciamo, maturi, si può dire maturi, Presidente? Ecco, diciamo così. Chiedo scusa alle aziende, agli amici che ci sostengono in sponsor, è chiaramente arrivato dal Presidente, vi nomino, vi sponso che ci sostengono, a partire da DAS, vediamo anche sulla maglia e sulle colori sociali la tracinta e il bianco, vedete, sullo sfondo legale e la macrona è il nostro sponsor per il tempo di maglia e poi Azzinund e LG Satis, grazie davvero del suo spedio. E adesso diamo la parola al Presidente della Federazione di Tlana Varbi, il Dottor Marzio Innocenti, abbraccio, poi il microfono. Vi sentite, sì? Sì? Allora facciamo così. Allora, sì, ho telefonato un'ora fa a Raffaella perché non sapevo se potremmo essere qua perché nei giorni che riesco a stare a casa dedico a lavorare, mi riaggancio a quello che ha detto quando guarda Raffaella, il reggae è una parte importante della vita ma non può essere l'unica. Questo vale per uno che fa il Presidente federale, a maggior ragione vale per chi gioca, che è giusto che si impegni molto e che dediti molto nel suo tempo la sua giovinezza al reggae, allo sport, a tutti quelli che sono i soldi che si inseguono giocando, ma è bene che nello stesso tempo si costruisca quello che è il dopo perché la vita è molto più lunga di una partita o di una carriera di reggae. Per cui sono qua con un grande piacere perché questa è una delle società più importanti che in questo momento ci sono in Italia. Le dico al Sindaco perché già qualche anno fa quando ero Presidente del Comitato Regionale sono venuto forse al suo primo anno alla presentazione in comune e gli è dissi che questa era una delle società più importanti in Italia. Io lo rientadisco adesso dopo un po' di tempo in cui ci sono state vicende importanti e se c'è una speranza del futuro del brand italiano è anche attraverso società come questa che hanno completamente stravolto quello che è il veramente ormai insopportabile e troppo vecchio schema delle società italiane diciamo di alto livello che a parole dovrebbero cambiare la situazione essere più aderenti a quello che richiede il reggae di oggi e sui fatti invece sono ancorati a schemi che forse andavano bene negli anni sessanta. Per cui loro sono arrivati qua hanno scaminato tutto facendo le cose fondamentali la prima cosa fondamentale è che hanno investito sull'impianto tutti quando parlano di questo impianto parlano di una cosa meravigliosa lo è ma comunque è l'impianto qui ci sono le cose che servono a giocare il regno campi strutture palestre uffici e poi hanno investito nella formazione questa è la grande differenza di questa società con le società che ci sono in giro per l'Italia gli altri pensano a vincere un campionato perché investono sulle cose che sono meno fondamentali che sono fanno una scuola molto forte poi spesso si trova nel bilancio loro hanno cominciato dalla base per cui questo è quello che io auspico nel futuro del regno italiano tante società come questa tante società come questa e il fatto anche che la nazionale verrà qua a preparare i testi in novembre e non credo che sarà l'ultima occasione più della qua ha un significato primo perché qua stiamo bene secondo perché qua abbiamo tutto quello che ci serve terzo perché qui siamo nel futuro e visto che io voglio che la nazionale italiana c'entri finalmente nel suo futuro questo è un binomio che trovo giusto e spero che Verona per tanti anni sia la base della nazionale italiana per il resto io oggi sono qui per la presentazione della vostra stagione purtroppo è chiaro che ogni volta capo bocca ha un senso anche politico per cui era giusto che facessi questa premessa però questa stagione credo che sarà una stagione importante per voi la stagione della ripresa è una stagione in cui ci sarà anche il cambio del sistema di formazione della federazione italiana e di conseguenza il vostro sistema di formazione è già proiettato in quello che noi vogliamo la federazione fino ad adesso ha fatto delle bellissime scuole medie superiori ma non ha pensato all'università io torno in avanti quello che la federazione si occupi dell'università mentre quelle che sono le scuole medie superiori vengono che siano in club a fare come voi state dicendo e le facciano crescendo anche loro perché sicuramente il vostro sistema di formazione allora spero che succeda venga il prodotto di tutti i club italiani di cedra degli più strutturati sicuramente porterà a una crescita del club per cui Verona è una delle società come ripeto per l'ennesima volta a cui io personalmente anche la federazione tiene di più e per cui la stagione che andate a disputare voi con il vostro staff tecnico è una stagione che seguirò con molta attenzione mi farà sempre piacere vedere le cose buone che farete e e niente continuiamo la federazione italiana e il REC di Verona sono due entità che stanno lavorando insieme per l'inverno del REC di Verona che abbiamo estremamente bisogno siamo in un momento complicato e difficile io lo so perfettamente è un giorno di confronto al fatto che in una situazione diciamo complicata mi viene chiesto e viene chiesto la federazione italiana REC di essere all'altezza di federazioni che da anni sono al vertice mondiale è giusto che sia così nello sport accettare solo le sfide che si assicuri di vincere non ha nessun senso è bene accettare le sfide che tutti ti dicono che non vincerai il giorno la soddisfazione sarà trilla anche perché sono assolutamente convinto che la federazione italiana REC REC italiana tutti i club italiani tutti i giocatori italiani vinceranno questa sfida l'unica cosa che non bisogna dire è quanto tempo però abbiamo cominciato a fare grazie grazie noi abbiamo fiducia e ringraziamo anche dell'incoraggiamento che ci viene dal presidente e chiediamo adesso un saluto anche a Sando Tresan che è il presidente del capitato regionale Veneto da poco ha anche l'eletto e quindi anche lui di fronte a delle sfide in questo parrienne sì decisamente è un piacere essere qui oggi grazie per l'invito la cosa più bella è la passione con cui Raffaella oggi ha fatto la sua presentazione che è veramente una persona che sicuramente non è nata nel rugby è abbastanza rettente nel mondo del rugby però il rugby l'ha già così ricepito e riesce a trasmetterlo in maniera così forte il suo progetto imprenditoriale è un progetto unico nello scenario del rugby italiano e noi come comitato regionale chiaramente dobbiamo imparare dai buoni esempi ma soprattutto dobbiamo renderci conto che per far crescere tutto il movimento che è un movimento dilettantistico naturalmente dobbiamo creare all'interno delle società quella mentalità imprenditoriale che abbia dopo un fine di fare quello che ha fatto Raffaella però ognuno deve avere un obiettivo una visione e quello che stiamo cercando di fare quindi di formare di dare formazione alle nostre società perché incominciano a progettare un sogno e imparare la strada per come realizzarlo le società di rugby sono una cosa importantissima per tutti i territori dove essi sono perché l'accoglienza che c'è nel mondo del rugby tutti gli sport sono importantissimi non sto assolutamente dicendo che il rugby è più bello degli altri ma l'accoglienza e l'attenzione che c'è alle persone nel mondo del rugby è sicuramente una cosa che è un po' sopra le righe quindi per i territori dove c'è una società di rugby è una grossa ricchezza stiamo spingendo molto anche per sviluppare il rugby inclusivo quindi abbiamo tante tante attività che servono proprio anche all'ambiente sociale quindi per questo c'è un grosso bisogno chiaramente della parte pubblica di sostegno a tutte a tutte queste attività quindi formazione programmazione perché se riusciamo a realizzare la base naturalmente anche l'apice chiaramente si innalzerà quindi questo è il progetto chiaramente legato a tutto il nuovo progetto che la federazione italiana ha messo in campo e quindi creare più società che abbiano competenza e creare più formazione e creare una base più solida grazie applausi per aver ricordato anche l'importanza sociale valoriale legame con il territorio del rugby e adesso andiamo a chiudere con un approfondimento sulla prima squadra spartiamo il riflettore adesso un attimo sulla squadra sul rango giocato sul campo sul campionato e lo facciamo con il coach Zain Ansel dobbiamo anche di presentare magari lo staff brevemente e raccontarci un po' come si presenta quest'anno come si presenta la squadra antracite in questo campionato di Serie A Buongiorno a tutti chi mi conosce sono di poche parole non so se sono curati guardi per andare in fondo comunque ci provo allora noi come squadra non ciasconde il nostro obiettivo quello di vincere il suo rito quest'anno e tornare in top 10 ok quindi io posso dire che questa è un ruolo nuovo in questo momento abbiamo scelto tutti i giochi settori in rosa quelle dell'achidemia quelli nuovi che io ho chiamato e sono convinto nella capacità e la voglia di ogni ognuno di loro e nel questo gruppo che loro hanno ancora più la fame di migliorarsi e di poi arrivare ad un alto livello e quell' alto livello non è un top 10 ma è ancora più alto e quindi per noi questo è un passo di loro percorso e quindi come allenatori ovviamente quello che vogliamo fare è dare una mano a una squadra di migliorare ogni settimana per arrivare al primo perché sicuramente ad oggi non siamo una squadra completa non siamo una squadra più forte però abbiamo il potenziale di essere e quindi noi vogliamo migliorare come squadra ogni settimana per poi arrivare alla fase finale nella nostra forma massima e poi ovviamente a livello individuale abbiamo tutti gli elenitori per aiutare i ragazzi di crescere e di migliorarsi ogni settimana per poi diventare alla fine dell'anno giocatore migliore nel livello individuale e collettivo quindi come ho detto l'obiettivo è di vincere migliorarsi ogni settimana per poi avere una base di giocatori che possiamo stare insieme l'anno prossimo in top 10 e stare tranquilli e non dover ruotare per stare su quindi quello dell'obiettivo sta a noi proprio a lavorare per arrivare però sono contento nel gruppo che abbiamo creato e che abbiamo è nel potenziale quindi sono piacioso l'ultimale che ha girato molto attorno alle cose ha detto con chiarezza quell'obiettivo ma l'importante è questa spinta al miglioramento e prima di cedere la parola al nostro sindaco abbiamo risposto una piccola sorpresa finale una battuta anche dal nostro capitano Michele Mortali che può portare dentro al mondo come dei giocatori buongiorno buongiorno a tutti dopo l'anno scorso io avevo chiesto a Zena e a Raffaella di non essere più capitano di questa squadra dopo alcune difficoltà interne e dopo alcune settimane di allenamento con i ragazzi ho cambiato idea e sono veramente felice di averlo fatto nel senso che si sta creando qualcosa di diverso dagli anni passati in questa società c'è un gruppo che sta diventando qualcosa di più sta diventando una famiglia e come già ho detto loro penso sia una fortuna in un momento leggero di estrema divisione in questo momento avere un gruppo alle spalle un gruppo di fianco degli amici con cui parlare con cui andare a cena con cui passare tanto tempo e passarlo di qualità mi sto rendendo conto che nelle mie priorità questa squadra sta assumendo velocemente una posizione in alto per così dire e dal punto di vista di campo mi porto via proprio un senso di fiducia per la stagione quindi non vedo l'ora di tornare in campo domenica e sono sicuro che nonostante la giovane età abbiamo le potenzialità di fare molto bene e ringraziando anche la fortuna che abbiamo di avere la struttura sì uno staff che ci allena in un modo penso diverso da tutte le altre società di serie A ma anche secondo me in top 10 quindi lasceremo la parola al campo però io sono estremamente fiducioso di quello che ci attende adesso ringraziamo per la pazienza il nostro sito e ci diamo per dire la parola si è fatto sfruttare da un'ex amministrista come Thomas de Ferna perché non ci sia mai per la volere che mi piacca mi sentite anche ma intanto grazie 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 per l'invito io intanto parlo con un ringraziamento che non c'entra con questa mattina però sono molto contento e molto orgoglioso che di sera ho già ringraziato il presidente ma allora ci siamo messaggiati di sera perché come avrete detto Verona non sarà solamente la sede per la chiusura delle Olimpiadi della Cermona Olimpica del 2026 ma sarà anche ospiteremo anche la Cermona di apertura delle Paralimpie del 2026 e dell'inizio di Marca e io penso che questo per il mondo dello sport della nostra città per la nostra città sia un motivo di orgoglio incredibile perché già essere sede Olimpica per la Cermona di chiusura era qualcosa di importante ma essere anche sede Olimpica per la Cermona di apertura delle Paralimpie che tra l'altro ogni anno sia quelle estive che quelle invernali per fortuna di cui io stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore sono molto di loro quindi c'è qui anche il Presidente di una altra federazione è una grande famiglia quello dello sport negli anni ci tenevo a fare questa sottolineatura un bel plato la seconda cosa è una battuta se parlate tanto di formazione faccio il sindaco faccio l'imministratore sono qui a parlare di sport e dico al fine speriamo che anche la politica del futuro ragioni in questi in questi modi proprio la politica non la politica sportiva la politica perché amministrare la comunità che sia una città che sia una regione che sia un paese intero maggiore ragione c'è bisogno di formazione e negli ultimi anni di formazione la politica si è parlato di formazione per le scuole perché ci vuole formazione 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 senza rendersi conto che la formazione mancava invece a chi la formazione la chiede cioè all'interno della classe dirigente io ritengo che invece questo sia fondamentale amministrare una comunità è una cosa particolarmente complicata particolarmente complessa ci vuole formazione ci vuole esperienza ci vuole una serie di cose perché conversamente si creano danni inziché portare vantaggio alla comunità e questa è una seconda riflessione che prendo spunto e mi collego a quello che è stato detto io sono ovviamente molto orgoglioso sentire i presidenti della federazione nazionale regionale che parlano della società della nostra società direi che mi conoscono nel senso della nostra città ma perché la sento nostra per la città sentirne parlare come un esempio come un esempio a livello a livello nazionale come proiezione del futuro del mondo del regno io ho già dichiarato che il mio primo piccolo a 3 anni e mezzo ma lui direzzerà lui poi deciderà cosa fare saprà per certo che dovrà andare a vivere a Verona allo stadio che lo sa già e poi ti fare per il Verona proprio il sport se lo sceglierà lui e io spero che scelga il regno perché lo sport a me piace di più per i valori che porto a me poi nella vita ho fatto dell'altro a livello sportivo se tornassi indietro probabilmente farei farei il regno e non tanto non solo per lo sport in sé ma per tutto quello che è stato detto stamattina e che ho imparato a conoscere grazie e lo ricordo visto che non c'è più l'amico Danilo Zantedeschi negli anni quando l'ho conosciuto e mi ha avvicinato al mondo del regno quindi vi ringrazio anche di questo rimane solo il finale un grande buon calupo evidentemente e la speranza quando l'ho del mondo sport faccio mai l'orguglio di questo la speranza la speranza è che quello che è stato detto si concretizza perché poi è chiaro che tutto questo grande lavoro le difficoltà che avete avuto vi rivolgo anche soprattutto a ragazze ad allenarsi in un anno disastroso complicatissimo anche soprattutto per il mondo dello sport allenarsi io quando mi allenavo a giocare a calcio l'allenamento lo vivevi come un grande sacrificio per poi divertirti a giocare la partita ma se fai il grande sacrificio e poi non c'hai il traguardo settimanale capisco che sia molto complicato e molto difficile quindi siete stati bravi a tenere botta adesso c'è un campionato finalmente si riapra questo ulteriore mattoncino di una vita che ci riprendiamo della sua interezza è grande bocca al buco per raggiungere quei risultati che vi siete prefissati perché poi sono dei risultati importanti come ricordi che ho detto all'inizio per la nostra città per la nostra comunità che ha sempre più marchio di una città olimpica quindi una città legata al mondo dello sport e il rugby per questa città è veramente uno dei mattoni più importanti rispetto allo sport e rispetto a quello che tanti nostri ragazzi e ragazze bambini e bambini cominciano ad affrontare del mondo della rete quindi grazie per i successi spero riusciremo tutti i settimane allora abbiamo la consegna del pallone con tutte le firme e le ragazze della squadra dello staff del nostro sindaco che è costato a memoria e magari cominciamo più tardi il figlio mi tanto mi lo buttate per qualche domanda ci tenevo la Presidente ad una battuta finale io volevo sottolineare l'importanza se il Presidente Marzo l'ha detto per il fatto che la Nazionale venga a prepararsi per il test match qua nel Pagliari Center non è solo una questione di piantistica che non è rilevante ed è sicuramente sostanziale nella scelta che ha fatto la Federazione Italiana Regni però sapete che poi io voglio sempre far capire agli altri perché per me è un onore è un onore perché è un po' la mia progettualità il fatto che i giovani lavorino per arrivare alla mia prima squadra è solo una parte del percorso per questi ragazzi io vorrei che il più possibile questi ragazzi poi arrivassero alla Nazionale cioè il mio compito come Presidente di un club è fare un divaio forte per la mia prima squadra per la socialità della città ma soprattutto per la mia Nazionale e sinceramente per me è un orgoglio sapere che domenica o sabato 30 giocheranno tre miei ragazzi nella Nazionale anche a 18 che è un ragazzo che è un ragazzo che è un ragazzo che è un ragazzo nella Nazionale per 20 che sicuramente probabilmente spero che si venderebbe il febbraio o il giornale lo vedremo ancora in campo e che tanti altri ragazzi che sono qua seduti che non sono andati a scuola perché sono questi gli età di cui sto impagliando i ragazzi che non hanno un bambino che stanno andando a scuola saranno parte della Nazionale Maggiore questo è il mio dovere non il mio obiettivo il mio dovere l'ho detto sempre quando fanno quegli altri presidenti è strano dirlo secondo me da una donna però noi siamo presidenti di Clare di Regni perché abbiamo prima di tutto dei doveri io mi sento questo nel compito della mia istituzione e della mia federazione grazie